Bonus 100 euro, arriva in gazzetta ufficiale il decreto con il bonus natalizio e altre novità, perciò vediamo tutto nel dettaglio. Subito dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto Omnibus e durante le sedute il testo si è arricchito di qualche novità. La prima riguarda sicuramente il bonus 100 euro destinato alle famiglie con reddito complessivo 2024, inferiore a 28.000 euro e composte da un genitore lavoratore con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure da un genitore lavoratore e almeno un figlio a carico. Il bonus deve essere richiesto al proprio sostituto d'imposta dal lavoratore, il quale deve autocertificare di possedere tutti i requisiti, insieme al codice fiscale dell'eventuale coniuge e del figlio. Poi i 100 euro saranno pagati direttamente nella busta paga di dicembre insieme alla tredicesima. Ma attenzione perché se autocertifichiamo di aver diritto al bonus, ma in realtà non ci spetta, allora dovremo restituire la somma in sede di dichiarazione. Un'altra importante novità riguarda il ravvedimento speciale legato al concordato preventivo biennale. Infatti, con il decreto viene introdotto un condono che permette alle partite IVA di sanare eventuali omissioni dichiarative del periodo che va dal 2018 al 2022. Ma solo si aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024. C'è poi la questione del catastale per gli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto. Il decreto omnibus prevede che dal 1 gennaio 2025 roulotte, case mobili, caravan, eccetera, situati in strutture ricettive all'aperto, non dovranno più essere inseriti nella stima diretta della rendita catastale. Quindi le strutture ricettive a partire da gennaio 2025 dovranno presentare gli atti di aggiornamento geometrico per la nuova mappa catastale entro il 15 giugno 2025 e gli atti di aggiornamento del catasto fabbricati. Piccole modifiche sono state fatte anche alla ZES Unica Sud, per cui è previsto un rifinanziamento di 1,6 miliardi di euro e un nuovo obbligo per le imprese, che dovranno inviare una comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate con i vari investimenti realizzati e l'importo del credito spettante. Questa comunicazione può essere inviata a partire dal 18 novembre fino al 2 dicembre 2024. E infine due importanti proroghe sulle scadenze fiscali. La prima riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva, spostata dal 30 giugno al 30 settembre, e la seconda è quella per gli adempimenti collegati alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, che dal 30 giugno passa al 30 novembre. E per ora è tutto, al prossimo Focus!